Qualche giocatore chiave, penso soprattutto a Paul Pierce, ecco l'angolo non girato grazie all'ottimo lavoro di Germaine O'Neal ecco Wade mandato verso la linea di fondo e il famoso downing ne esce però in maniera piuttosto brillata e invece che due punti di hit si accontentano tra virgolette di tre In condizioni normali non hai fatto girare all'angolo, l'uomo che l'ha girato per tutto il primo tempo e arriva questo tiro di Lebron, questo è il problema di giocare contro Maier Attacca Pierce in campo con quattro falli, interessante mossa Di Doc Rivers, interessantissima mossa di Ray Allen, sedia da tre, fallo di Wade, tiro libero supplementare in arrivo che fuori classe, guarda commovente il suo tiro è più pulito della casa bianca guardate che cosa esce da quella mano, un sonetto Ed è Cassina Bisciolti la rotazione di Wade che cerca di metterci l'ultimo sforzo lo paga con un gioco da quattro punti anche perché ha già sbagliato un tiro libero nel 94, il prossimo e nella prossima decada io provo alla prossima data maia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti